Mister Lazzini, 2-0 sotto dopo 25 minuti, una grande reazione il 2-2 e poi per poco in più occasioni potevi anche portare a casa tre punti. Sì, approccio brutto, ci siamo quasi fatti due gol da soli, siamo andati sotto, non abbiamo giocato come sappiamo, poi abbiamo avuto secondo me la fortuna di accorciare le distanze alla fine del primo tempo e poi secondo invece ho rivisto la squadra che vorrei vedere sempre, cattiva, concentrata, oltretutto siamo rimasti anche in dieci e non sembrava che noi fossimo in dieci. Dopo il partito di Tamberi credevo anche nella vittoria, abbiamo avuto due o tre palle anche importanti, il loro portiere è stato molto bravo, dispiace perché secondo me abbiamo buttato via dei punti importanti perché abbiamo regalato quello che non dobbiamo regalare, cioè i primi tempi così, però è anche vero che può capitare. L'importante è stata la reazione da squadra vera, da squadra che sa quello che deve fare, tra il primo e il secondo tempo forse i ragazzi l'hanno capito, ci siamo un po' svegliati, ripeto poi alla fine credo che avremmo potuto meritare anche la vittoria e i punti. Ecco, vedendo la reazione del secondo tempo hai qualche rimorso dell'inizio della gara soprattutto? Sicuramente sì, perché ripeto abbiamo regalato un tempo, abbiamo regalato il secondo gol specialmente in maniera clamorosa, però è anche vero che vai sotto di due reti, non è facile, invece credo che poi di oggi, di positivo, si debba prendere proprio il discorso della cattiveria, del fatto di non voler morare mai, che ci abbiamo messo nel secondo tempo ed è questo che a me personalmente fa ben sperare, insomma che è una squadra che va sotto di due gol e è facile che possa sbraccare, invece siamo rimasti in partita, l'abbiamo pareggiata in 10 contro 11 e poi forse abbiamo potuto anche meritare di vincere, però dai. Ecco, ora un punto sopra tutte, Ponzacco solo al comando su un punto sul Pesasanta, ora c'è da andare avanti, dritti, per vedere di arrivare al giro di Boa con qualche punto ancora più di vantaggio. C'è da fare bene ogni domenica, da qui alla sosta, sapendo che sono tutte battaglie come oggi, perché tutti quanti fanno la partita della vita con noi e quindi adesso lo sappiamo quello che ci aspetta, l'importante è che quello che è successo oggi non si ripeta, perché poi puoi anche perdere, pareggiare, però ecco, poi c'è il rammarico di aver buttato via un tempo, di esserci complicati la vita per disattenzioni, quando noi sappiamo che Ponzacco è una squadra forte, però non bastano né i giocatori, né i nomi, bisogna metterci quello che ci mettono le altre squadre, quindi tanto cuore, tanta concentrazione, perché poi sono quelle che fanno la differenza in queste categorie. Oggi visto non puoi regalare niente, che vieni subito punito, e quindi che ci serva da lezione il primo tempo di oggi e teniamoci stretto invece quello che è stato fatto nel secondo tempo. Grazie.